ci scrive johnny ciao pino stavo educando mia figlia ad andare al video nero e a partecipare a miss italia ma per colpa tua da quando guarda il tuo programma si veste da metallare e se ne vai ai tuoi concerti ti prego fai un appello a tutti che la smetta di seguire il tuo mito e che se ne vada a un locale vibratore un saluto da johnny johnny ma smettila tu e di rastronzate vai johnny johnny vingula vingula jag